L'ospedale di Montecatone è una struttura pubblica, anche se dal punto di vista giuridico è una società per azione, però è a totale capitale pubblico ed è il principale centro di riabilitazione per le lesioni midollari della regione Emilia-Romagna, anche se ricovera pazienti un po' da tutta Italia. Infatti il 60% dei pazienti ricoverati a Montecatone con lesioni midollari proviene da altre regioni. La nostra casistica è sicuramente la casistica più importante fra i centri italiani e ci pone al livello dei 4-5 migliori centri europei. Noi ricoveriamo circa 650 pazienti all'anno in ricovero ordinario, di cui l'80% è affetto da lesione midollare, quindi paraplegici o tetrapledici, e il 20% da gravi lesioni cerebrali. Noi riceviamo il paziente nei primissimi giorni dopo l'intervento chirurgico di stabilizzazione della colonna nei casi di una lesione midollare traumatico, effettuata nei tre trauma center della nostra regione, oppure da rianimazione di altri ospedali italiani. Possiamo assistere il paziente già nella fase acute, cioè quando ha bisogno anche di assistenza respiratoria, perché noi siamo dotati di una terapia intensiva e di una subintensiva, quindi un'area critica di 19 posti letto. Complessivamente abbiamo 150 posti letto di degenza ordinaria e 8 posti letto di deospita. Noi siamo in grado di garantire un alto livello assistenziale specialistico, quindi sia nella fase acuta, nella fase critica, sia nella fase di riabilitazione, sia nella riabilitazione fisica, sia nella fase del reinserimento e quindi della riabilitazione, per gli aspetti anche sociali, psicologici, di riadattamento a una nuova capacità lavorativa. Perché ci teniamo molto a questo approccio interdisciplinare e globale della riabilitazione? Come tutti sanno, in molti casi non si guarisce da una lesione midollare, per cui il nostro compito è di rendere il paziente di nuovo abile e quindi riabilitarlo in condizioni fisiche, quindi di abilità diverse e noi cerchiamo di prepararlo al massimo livello di autonomia di vita, per cui oltre agli aspetti di riabilitazione fisica sono importanti anche tutti gli altri aspetti di riabilitazione e reinserimento nella capacità quindi di far fronte agli aspetti della vita quotidiana. Per realizzare questo obiettivo ovviamente è necessario l'identificazione di percorsi integrati, sia nella fase precedente il ricovero, sia nella fase post ricovero, quindi con i centri territoriali del territorio di vita del paziente. Quindi noi stiamo facendo un grosso lavoro sull'organizzazione dell'integrazione dei percorsi perché è chiaro che sia nella fase precedente al ricovero, sia nella fase del ricovero, sia nel post ricovero è necessario un lavoro sinergico e integrato di molte competenze, competenze di diversi specialiste. Noi a Montecatone oltre ai fisiatri abbiamo anestesisti e rianimatori, abbiamo urologi, abbiamo pneumologi, abbiamo internisti perché questo è un paziente complesso che ha bisogno di molte competenze. oltre ai tecnici della riabilitazione, infermieri, personale, ausiliario, psicologi, assistenti sociali. Noi abbiamo complessivamente circa 340 persone dipendenti a Montecatone, la stragrande maggioranza personale medico e non medico di assistenza e questo personale oltre ad avere necessariamente deve avere dei requisiti di alto livello professionale, deve avere anche un alto livello di motivazione alla relazione e a un rapporto complesso come quello del paziente con grave cerebrolesione o grave mielolesione. Noi abbiamo un reparto dotato di 24 posti letto che chiamiamo reparto per i rientri in ricovero. Oltre a questo abbiamo un The Hospital che tratta circa 850 pazienti all'anno per pazienti che hanno delle prestazioni solo nella fase diurna. Sicuramente i pazienti hanno bisogno di controlli e di nuovi periodi di ricovero a Montecatone, però noi cerchiamo di ridurre al minimo questi periodi aiutando i territori di provenienza ad avere il maggiore livello di autosufficienza possibile. E per questo abbiamo anche negli anni recenti sviluppati delle metodologie per una consulenza in medicina riabilitativa a distanza, cioè la cosiddetta telemedicina. Questo proprio per rendere i territori più autosufficienti possibili e ridurre il più possibile la necessità di nuovi ricoveri a Montecatone. Per noi l'attività sportiva, quindi la riabilitazione al gesto sportivo, è un passaggio importante per l'acquisizione di un maggiore livello di autonomia di vita e anche motivazione e gratificazione del paziente. Il rapporto con il comitato parolimpico, sia a livello nazionale che regionale, per noi è un elemento sussidiario importantissimo proprio per un aspetto direi di cura, un aspetto importante di cura. D'altra parte l'attività fisica, l'attività sportiva non agonistica direi che può rientrare e già rientra in molti progetti come una vera e propria prescrizione terapeutica, perché sicuramente è un elemento importante per la salute delle persone. Noi con il comitato parolimpico e con le strutture sportive della nostra area, della città di Imola, abbiamo un intenso rapporto di collaborazione che impegna proprio i pazienti e durante il ricovero ci sono delle uscite verso le strutture sportive accompagnate dai nostri operatori che costituiscono proprio queste iniziative, costituiscono anche un importante elemento di integrazione perché fanno percepire con assoluta evidenza i pazienti che è possibile avere o svolgere una vita attiva anche in attività sportive. La nostra attività per pazienti non ricoverati è possibile anche perché disponiamo qui proprio vicino all'ospedale di un centro di accoglienza, una struttura con delle caratteristiche accessibili anche a pazienti disabili, una struttura che è dotata di circa 80 posti che possono quindi ospitare sia i pazienti in trattamenti diurni sia i parenti familiari di pazienti ricoverati. Noi siamo una struttura pubblica, noi siamo una struttura del Servizio Sanitario Nazionale e fortunatamente nel nostro Paese le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale, in particolare le prestazioni di ricovero, sono completamente gratuite. Sicuramente in particolare per i pazienti che provengono da territori lontani, capisco che per i familiari, soggiornare qui vicino all'ospedale nel centro di accoglienza sicuramente comporta spese di soggiorno anche se le tariffe sono il più basse possibile e naturalmente comporta sacrifici e disagi. Sicuramente fra questi non c'è la necessità di pagare niente per le prestazioni dell'ospedale.